salve a tutti in questo video parleremo del scutosauro viveva in russia era il bivoro e era lungo fino a tre metri e purtroppo il peso è sconosciuto però secondo me pesava una tonnellata più o meno vedete quanto è grosso dopo lui e molti scheletri scoi sono stati trovati delle sabbie nelle paludi della russia oppure sono stati trovati i degli acque sono affogati perché mette trovavano cibo probabilmente non ce l'hanno fatta e questo ha portato un scienziato a pensare che forse questi qua non erano animali terrestri ma erano animali acquatici però secondo me no non sono animali acquatici perché loro hanno le zampe le zampe proprio così cioè non sono animali acquatici per me sono animali terrestri comunque questo video finisce qui ci vediamo al prossimo video iscrivetevi al canale mettete mi piace ciao 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 Grazie a tutti.